Sì signori, è proprio così. Giuntoli ha preso tutte le sue fish, le ha messe sul piatto e ha urlato all in. Io quando ho visto questa immagine, che sono i convocati di oggi per la partita di questa sera amichevole che giocheremo a Pescara, mi sono dovuto armare di blocco note e wikipedia per cercare di non dimenticare alcuni giocatori che non sono stati aggregati. E togliendo da Fara, Savona, Barbieri, Rui, Astic, Sekulov e Bangulà, che sono dei giocatori comunque aggregati alla prima squadra, poi giocatori come Astic in realtà molto probabilmente li vedremo in pianta stabile, lo stesso Savona potrebbe essere spesso convocato in prima squadra, quindi dei giocatori che comunque faranno parte della Juventus del prossimo anno, però togliendo questi giocatori qui ti rendi conto che siamo pochi, perché rimangono veramente pochi giocatori davvero della prima squadra. Perché all in? Perché ci sono dei giocatori che non sono stati convocati per scelta tecnica. Ripeto, mi sono dovuto armare di blocco note perché togliendo gli infortunati, quindi Kostic, Desciglio, Miretti e Milik, ecco che ti rimangono fuori diversi giocatori e ognuno di essi ha una motivazione principale per cui è rimasto fuori. Partendo da Shesley, che è ancora in ferie e quindi non ha ancora iniziato i allenamenti, Tiago Jalò, Rugani, McKennie, Artur, Nicolussi e Chiesa. Questi sono giocatori che stanno bene, sono sani, sono giocatori che alcuni addirittura si sono allenati agli ordini di Tiago Motta con la prima squadra della Juventus, ma che non fanno più parte del progetto tecnico della Juventus. E che quindi questa sera sono rimasti a casa, all-in di Cristiano Giuntoli, per far capire ai giocatori e ai loro procuratori che nell'arco di questi giorni ad arrivare al 31 agosto al termine del mercato dovranno trovare una sistemazione per i loro assistiti. Non voglio rimanere su Shesley, sappiamo già la situazione, ma anche tra gli infortunati abbiamo Kostic, Desciglio e Milik, che molto probabilmente usciranno tutti e tre, si tratta soltanto di capire dove. Alcune cose però stupiscono, perché Shesley ce lo potevano aspettare, ma Tiago Jalot è un giocatore che addirittura ha giocato la prima partita con il Nuremberg, i primi 45 minuti, è stato schierato titolare da Tiago Motta. Su Jalot si era già parlato, in realtà, ad inizio mercato, della possibilità di vederlo lasciare la Juventus in prestito per andare a giocare, perché ha bisogno di mettere minuti, di recuperare da quel brutto infortunio che l'ha tenuto fermo. Però poi si erano un po' allontanate le voci e quindi tutti lo davamo come giocatore che sarebbe dovuto rimanere in rosa per entrare all'interno delle rotazioni. E invece no, Tiago Jalot è una trattativa molto strana, perché è un giocatore che potevi già prendere a parametro a zero, invece ha anticipato il pagamento di 3 milioni di euro per cercare di toglierti di dosso quelli che erano gli interessamenti di altri club, tra cui l'Inter, e quindi impedire al giocatore di firmare a zero per quelle squadre e avere quindi la possibilità di giocare subito nella Juventus. Poi ha fatto sei mesi dove il campo praticamente non l'ha mai visto e dentro questa preparazione è stato considerato non pronto per giocare nella Juve dal punto di vista fisico. Quindi uscirà in prestito, però è un'operazione molto strana. Più strana è quella di Rugani, altro giocatore di cui dobbiamo discutere per forza di cose. Rugani era un giocatore che tutti, bene o male, potevamo aspettarci a vedere dentro la rosa della Juve, e invece è pronto ad uscire addirittura in prestito secco direzione Ajax, una trattativa che abbiamo già discusso e che francamente non trova il senso logico all'interno della discussione. McKennie è un nome che era diventato ingombrante perché aveva rifiutato l'Aston Villa per dare la possibilità all'Aventus di arrivare a Douglas Lewis senza aggiungere dei giocatori giovani all'interno dell'operazione, poi sostituito da Barrenecea, McKennie è un altro di quelli che è davvero sul mercato, si è allenato addirittura da solo quando la Juventus era in Germania, è un giocatore che la Juve non sta prendendo in considerazione come parte del progetto e anzi dovrà trovare una squadra che possa dargli quello che spera di poter ottenere dal punto di vista del salario e dell'ingaggio e che dia alla Juve anche quello che vuole dal punto di vista economico del cartellino. In caso contrario a gennaio potrà firmare a zero per qualsiasi squadra. Di Arthur non voglio neanche parlare perché è un giocatore che ormai sta girando per l'Italia, per l'Europa come una sorta di pacco e la Juventus deve trovare una sua stimazione, si spera addirittura definitiva, perché è un residuo di una cattiva gestione del passato ed è forse anche un po' l'emblema di quello che è stato la Juventus degli anni precedenti. La Juventus che arrivava a determinati giocatori anche con degli scambi ingombranti. Poi abbiamo Nicolussi che secondo me aveva delle buone possibilità di rimanere a un certo punto perché si erano un po' raffreddate le voci che lo volevano fuori. Ci si poteva attendere un Nicolussi comunque destinato a rimanere alla Juventus come riserva. Invece questa esclusione dai titolari, anzi dai convocati, quindi non partire neanche per Pescara senza nessun tipo di problema fisico perché il giocatore non è infortunato, è un vero e proprio richiamo, è un vero e proprio invito da parte di Giuntoli e della Juventus a trovarsi una nuova sistemazione e a mobilitare l'entourage del giocatore. L'esclusione di Nicolussi mi ha sorpreso, mi aspettavo di vederlo salire sull'aereo, sul pullman, quello che è per arrivare a Pescara e poi scendere in campo questa sera. Ma quella che fa più rumore di tutti ovviamente è l'esclusione di Federico Chiesa che è tornato ad allenarsi con i compagni in questa settimana dopo il rientro della Juventus dalla Germania. è un giocatore che è stato anche un pochettino oscurato dalla Juventus lato social, non ci sono state foto, non ci sono state video, lui invece ha pubblicato su Instagram una foto in cui addirittura ha taggato la Juventus, una foto dove era rappresentato ad allenarsi insieme ai compagni, ma per la Juventus Chiesa è un giocatore in uscita e se hanno provato a mascherare fino a questo momento il tutto, ecco ora invece è effettivamente così. Io credo che questi giocatori siano tutti dei profili dove la Juventus non ha interesse a guadagnare chissà quanti soldi. Dico così perché escludere dai convocati questi giocatori significa sì dare un segnale forte dal punto di vista del mercato, la serie dovete levarvi, non vi vogliamo più, però dai anche un segnale alle squadre che possono essere interessate e gli vai a dire per me sono degli esuberi e quindi se sono degli esuberi significa che non puoi calcare la mano dal punto di vista economico, anzi dovresti stare anche abbastanza ad ascoltare quelle che possono essere le proposte, magari a ribasso rispetto a quelle che potevano essere le aspettative legate al valore di alcuni giocatori. E se Chiesa già aveva una valutazione bassa, con questa mossa qui, che è la mossa davvero dell'All-In, secondo me vai quasi ad azzerare il valore di mercato di Federico Chiesa, non dico del tutto però quasi. Io ribango della mia idea, ve lo dico da un po' di mesi a questa parte, secondo me Federico Chiesa sarà un giocatore del Napoli. Sono convinto di questa cosa qui, a maggior ragione adesso come è stato convocato perché la Roma poteva essere interessata e è andata a Sussule e quindi si tira fuori dal discorso legato a Federico Chiesa. O si trova una squadra di Premier League che è disposta ad acquistare Chiesa, ma bisogna trovare anche una squadra di Premier League che poi vada bene a Chiesa, oppure secondo me in Italia, vi dicevo anche l'altro giorno che non credo che l'Inter possa essere un'opzione, ha maggior ragione adesso, perché non penso che Chiesa possa rimanere all'interno della Rosa e la Juventus e andare a scadenza, perché la Juventus l'ha proprio messo sul mercato. Con questa esclusione la Juventus ha detto chiaro e tondo, Chiesa anche se rimani tu puoi a Gennaio e firmare con chi ti pare, ma qui non troverai spazio. Quindi secondo me alla fine andrà a Napoli, si è parlato e si sta continuando a parlare di una possibilità di scambio con Raspadori, non voglio dire che andrà così al 100%, perché non lo so, non ne ho idea, però credo che possa essere un'opzione molto probabile, molto probabile, è giunto, li conosce a Raspadori, è stato lui a portarlo al Napoli dal Sassuolo, Raspadori è già stato un nome in orbita Juventus, io credo che qualcosa si sia fermato dal punto di vista della crescita di Raspadori, perché ha fatto molto molto bene in una realtà come Sassuolo, poi quando si è alzato il livello non è stato in grado di rispondere alle aspettative, anche nell'anno dello Scudetto è stato sì importante, qualche gol pesante, anche alla Juventus ci segna veramente sempre Raspadori, però non mi sembra il giocatore che poteva pensare, che faceva vedere di poter diventare, poi non lo so se può essere un profilo che interessa Tiago Motta, non ne ho idea, però secondo me quella diventa un'opzione molto probabile, però voglio dirvelo adesso, prima che inizi tutto il discorso, se mai inizierà il discorso della trattativa Scambio Chiesa Raspadori, secondo me, sempre secondo me, a maggior ragione dopo questa esclusione, nel caso la Juventus dovrebbe aggiungere anche una parte economica, perché la valutazione di Raspadori per me oggi è più alta di una di Chiesa che va in scadenza, a maggior ragione di un Chiesa che va in scadenza, che viene escluso dai convocati della Juventus e messo brutalmente sul mercato. Quindi non lo so se è la strategia giusta, voglio sperare di sì, però mano pesante, cioè è game over per tanti calciatori, quelli che abbiamo letto, che abbiamo commentato, alla Juventus non avranno più spazio, non avranno più futuro, e se rimarranno alla Juve e non troveranno un incastro con un nuovo club, saranno dei giocatori fuori rosa. Quindi da oggi, veramente, giunto lì si gioca la carta dell'all-in, non so se è perché particolarmente preoccupato di fare tutte queste eccessioni, e quindi vuole dare una sterzata, una smorzata, o se è perché sono disposti a cederlo gli anche a prezzo di saldo, quasi regalandoli, per togliersi degli impicci di determinati giocatori, determinati ingaggi o determinate situazioni, non lo so, ma questo è, ci sono rimasto, perché so che non sembra, perché è una banalissima immagine con i convocati, ma allo stesso tempo nasconde qualcosa di più, ed è un'indicazione molto, molto pesante. Ci vediamo stasera per la live reaction su Twitch. Ciao ragazzi.